Musica Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Michele ha fatte bene Quarto di quinto E dove sono? Adesso fa ieri Sì 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 Quasi quasi Guarda che bello tuo vaglietto Era 12,50 Questa è la tua stiglia Che era? Stivato? No, ma chiaramente quando partivano aereo I primi sono giocati Non erano i Ma comunque guarda C'è una questione di Ah bene E poi ho fatto Un divieto entrare Guarda quanti spettatori c'è qua Nessuno poteva entrare Guarda quanta gente c'è dentro E loro si L'unica capitola Perché è andata anche a Vigicose E loro hanno raccontato Sì sì Quelli degli aerei possano Se non era per loro qua Non c'era un cacchio di nessuno Senti che hai fatto vedere lì Uno schermo Beh adesso avrà finito No Perché ci sono solamente le Satelli che vengono Sì Ci sono 3 o 4 telecamere Sì Wow Questo è lo fatto Guarda Che cosa fai? Ecco Da uno dietro l'altro Eh sì? Eh va che roba Ma cosa che fuma? Quella ha un aero di linea Però quella ha un aero di linea Guarda Ah che arriva Guarda 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 che arrivo. Quello non è un avianco però. Ecco che arrivano, arrivano. Guarda che arriva Lori, guarda. Guarda che arriva. Guarda che c'è fino? No, tieni. Che devo fare? Ha detto che piove su là. Eh, beh. Adesso arriveranno i giorni. Eh, eh. Anche perché ne sono arrivati quanti? 5, 6, 6, 5. Il primo gruppetto. Quattro, ne manca uno. 22 sono. 22 erano? 22, li ho contati. Ma hai voglia ora che arrivano tutti. 22. Stop, c'è uno più basso. Sì. D'accordo. Perdonci, perdonci, perdonci. Pagmari. 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 Samara l'interno. bellissimo questo adesso fa un altro giro guarda che fa un altro giro guarda che è bello 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 bravo è proprio bravo guarda che è bello ma comunque visto che la gara è finita adesso si diverte guarda che è bello che è bello che è bello la polizia la va a prendere la va a prendere non ce la fa tirare guarda che è bello guarda che è bello guarda che è bello Grazie.